Buonasera a tutti, nel primo quarto di finale della Settebello Champions League, il Campari Red perde per 9 a 2 contro l'Unisteam. Qui con noi il Man of the Match è Capitano Fabrizio Emili, anche nel salvo che è un po' strano stasera. Allora, complimenti Fabrizio, questo è per te. Oggi questo è stato il tuo rientro ufficiale dopo ben due mesi e hai giocato divinamente. Ringrazio, ringrazio i miei compagni che mi hanno accettato dopo di stop, per colpa dell'infortunio. Oggi è una grande battaglia, è stato, è stato una buona partita. Adesso vorrei chiamare a 1 a 1 i miei compagni, per i nostri bomber dell'Unisteam al Postano, grazie per i set gol, ringrazio anche Kali e Nicosia. Oggi sicuramente avete giocato tutti benissimo. 9 a 2 è un risultato visto anche che avete giocato fuori casa, nettamente in vostro vantaggio, ci vuole veramente un miracolo da parte del Campari Red per passare. Probabilmente però nella semifinale incontrerete una squadra tra il Cafè Moshiri che è nettamente favore del Neversonzo, che sono delle ottime squadre e in ogni caso, appunto se doveste passare il turno con certezza, vi daranno del filo da torcere. Intanto noi pensiamo a mercoledì contro il Campari Red, perché non si può sapere tutto del calcio, la palla è rotonda, quindi non trottiamo mai l'intervistario e quindi cerchiamo di vincere. Poi per il Moshiri ci cominciamo dopo. Grazie a Leoni Steam e ci vediamo mercoledì per il Cusino dei...